Mi frega la macchina, mi scaldi nel sedile, si permette di rapida, mi chiede di aiutarla a ritrovare sua figlia, io gentilmente acconsento, mi coinvolge in una sparatoria con morti e feriti e sangue che scorre a fiumi, sradica una camminata eletonica con dentro un uomo, vola sul soffitto come Tarzan, io la salvo dal poliziotto che vuole ammazzarla e quello cerca di arrestare me! Si decide raccontarmi tutto oppure no? No.